Gentili ragazzi, stasera la prima lezione di Ecovita. Andiamo via alla nostra Ecovita. Ecovita sarebbe economia e vita, insieme. Parliamo dell'aumento del gas e della luce. Sapete che oggi ci hanno aumentato gas e luce. Perché? Perché tramite la crisi ucraina che tutta la confusione è successa in Russia e i danni che la Russia ci sta facendo ce l'hanno aumentata. E voi direte, voi direte. Noi il cazzo ce ne frega. Perché se no si stava a casa nostra a farsi i cazzi nostri invece di andare la roba, non ci aumentava la luce, non ci aumentava il gas. Vi sembra che ci sarebbero pochi di problemi noi? Vi sembra pochi? I problemi li abbiamo? No, si deve andare a rompere i coglioni anche a quell'altro. Ragazzi, Ecovita vuol dire chi si fa i cazzi sua, campa cent'anni. Quindi pensiamo ai nostri problemi e andiamo avanti. Lezione numero una. Finita. 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 Finita.